Zanardi, pane, alfabeto e socialismo. Spettacolo itinerante in Certosa di E. con Simona Sagone alla Fisarmonica Salvatore Panu, a cura di Associazione Jucali per la stagione estiva 2017 della Certosa di Bologna. 5 e 26 settembre, ritrovo ore 20 e 30, ingresso da Viale Gandhi. Prenotazione 333 47 74 139. Zanardi, pane, alfabeto e socialismo.